Sindaco, l'ente comunale di Agropoli si prepara già per le manifestazioni invernali. Oggi è una conferenza stampa proprio per presentare il tutto. Sì, buongiorno ai telespettatori. Oltre a presentare, come dicevi tu, gli eventi del mese di agosto e di settembre del 2022, già posso confermare che a breve, con il consigliere delegato Crispino, poi faremo un'altra conferenza stampa per quanto riguarda il settembre culturale che questa amministrazione ha voluto mantenere e che manderà anche per i prossimi anni e che quest'anno, ricordo, sarà la quindicesima edizione. Dicevo, presenteremo quindi i prossimi eventi relativi all'estate, di fine estate, ma in particolare vogliamo presentare il fatto che ci stiamo già lavorando per quanto riguarda gli eventi di Natale e gli eventi dell'anno 2023. Abbiamo pubblicato una manifestazione di interesse rivolta alle associazioni che vogliono proporsi per quanto riguarda i progetti per il Natale 2022 e abbiamo anche in questi giorni in giunta adottato un programma di sponsorizzazione, ossia lancieremo delle manifestazioni di interesse per la ricerca di sponsor per gli eventi di Natale 2022 e anche per gli eventi del 2023. Ricordo, nel 2023 ci sarà la cinquantesima edizione del Carnevale agropolese e come amministrazione ci siamo già ripromessi che al massimo ai principi di gennaio 2023 dovremo dare, almeno a grandi linee, il calendario degli eventi estivi del 2023. Quindi ringrazio Roberto Apicella per il lavoro che ha svolto in pochi giorni per quanto riguarda l'estate 2022 e sto apprezzando tanto il lavoro che sta mettendo in campo proprio perché vogliamo essere pronti, vogliamo dare le notizie in anticipo soprattutto anche per quanto riguarda gli operatori turistici che ce lo richiedono a gran voce il fatto di essere messi a conoscenza con un certo tempo di anticipo dei programmi sia invernali che stima. Grazie a tutti.